Regione Toscana, il Consiglio regionale. Ambiente, il Consiglio regionale approva una risoluzione relativa al piano sulla qualità dell'aria, dopo che in aula l'assessore all'ambiente aveva presentato i principali orientamenti. L'atto, che è stato approvato con 24 voti a favore, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e nove contrari, Fratelli d'Italia e Lega, impegna l'esecutivo regionale a prevedere la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiori criticità. Il documento chiede anche alla Giunta di attivarsi in ambito europeo affinché le necessarie direttive in materia ambientale siano sempre più corrispondenti alla puntuale analisi del quadro conoscitivo esistente e strutturate in modo da essere pienamente applicabili a livello territoriale. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'area. Un nuovo piano dell'area che deve, come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti. Un piano dell'area che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo, la salute dei cittadini. Non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dell'area deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'area saranno previste. Insomma passare da un chiudere la stalla dopo che poi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione e con i cittadini perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni ma si curi la qualità dell'area per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio lo dobbiamo ai nostri cittadini. Sì, abbiamo sostenuto la proposta della nostra Assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'area in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo. Servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche dei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di crescita nell'area di Lucca, nell'area di Firenze ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la regione Toscana, Italia Viva e il Partito Democratico. Il nuovo piano sulla qualità dell'area su cui la Toscana dovrà lavorare, secondo quando presentato in aula intende portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto e di materiale di particolato fine. Il piano intende ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, mantenendo una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto dei valori limite. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni. E quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano soprattutto nell'area fiorentina. Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'area che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrario in Toscana, prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalza, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze l'inquinamento in modo particolare dovuto come da centralina di Viale Gramsci all'inquinamento dai veicoli oppure la Piana, Lucca, Pisa, Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e nel 2015. La regione toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà, questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia. Una per la Piana Lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare in Toscana, atto che la scorsa settimana era stato licenziato dalle commissioni Ambiente e Territorio e Sviluppo Economico e Rurale, riunite in seduta congiunta. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore Partito Democratico e Italia Viva, due voti contrari Movimento 5 Stelle e cinque astenuti Fratelli d'Italia Gruppo Misto Toscana Domani. La Lega ha deciso di non esprimere il voto. La Lega, durante la commissione quarta congiunta alla seconda, ha preso atto che le due presidenti, la presidente De Robertis e la presidente Bugetti, hanno incontrato Confindustria, esponenti di Confindustria, sul tema senza che ne sapessimo niente e alla nostra richiesta di poter dar luogo all'audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede delle commissioni, proprio per permettere a tutti di condividere le considerazioni e le valutazioni di questo importante punto di riferimento, ci è stato negato. Abbiamo ritenuto questo un fatto estremamente grave. L'atto che va a modificare la legge regionale del 2015 disciplina il recupero di aree interne ai giacimenti. Secondo la maggioranza si tratta di un'opportunità da incentivare in quanto concorre al prioritario riuso di aree già interessate dall'attività estrattiva e al tempo stesso rappresenta un'occasione per condurre a conclusione il recupero di aree estrattive che diversamente non lo sarebbero. La modifica della legge introduce una nuova definizione che identifica questa tipologia di aree indicandole come sito estrattivo in esaurimento da riqualificare, ovvero come sito già interessato da pregressa attività estrattiva, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni, con limitate potenzialità estrattive residue, in cui l'attività è finalizzata al recupero e alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza. La legge introduce anche un nuovo articolo che disciplina le condizioni per l'individuazione e il rilascio delle autorizzazioni di nuovi siti estrattivi. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la regione toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da cinque anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo lo scopo ufficialmente è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, invece adesso diciamo con questo escamotaggio normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della regione toscana perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa, la pidea, come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estattivi per esempio secondo me è gravissimo perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne e crediamo che invece la regione toscana debba guardare maggiormente agli aspetti ambientali piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende, è un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano di essere diseconomici e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi sostenuta con forza anche dal nostro partito, rimane un po' anacronistica dal punto di vista molto ideologico dei Cinque Stelle che contrario a tutti anche su questo aspetto vorrebbero un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge che era emersa a novembre in Commissione poi è scomparsa, è riapparsa dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto ai emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. La proposta 148 prevede di creare una nuova tipologia di siti estrattivi, sono i siti da recuperare praticamente lo dico in maniera molto semplice perché l'argomento è molto complicato e credo che i nostri ascoltatori siano più interessati al ripristino del paesaggio che la norma prevede rispetto ai tecnicismi ad essa legati. Ci sono tutta un'asse in Toscana, tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare sono rimasti lì come sono. Passando per la tostata ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione. Comunque non superiore ai soldi diciamo così che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito.